Come prima indicazione le condizioni economiche della famiglia non sembrano tali da giustificare un evento così afferato nelle modalità di esecuzione per motivi di carattere economico. Quindi andrebbero probabilmente o andranno rintracciati diversamente. Si parla di omicidio premeditato, c'è una prima ricostruzione dei fatti e qual è? La prima ricostruzione c'è però non posso dire più di tanto proprio perché a questo punto gli atti sono di competenza della procura dei minori con la quale ci siamo messi d'accordo perché facessimo noi questa prima comunicazione alla stampa. Però non voglio approfondire oltre attività che sono ancora in corso. La dinamica è quella che è emersa, cioè che c'è stato un accordo per uccidere questi due soggetti con l'uso di un'ascia. Subito dopo l'intervento sono stati coperti con dei cellofan. C'è stato un tentativo di spostare uno dei due corpi, probabilmente non sono riusciti, però ripeto sono ancora delle indicazioni che dovranno trovare conferma nella consulenza tecnica disposta col medico legale e dagli accertamenti che sono comunque in corso nella ricostruzione dei fatti che necessariamente deve essere fatta sul posto. Ci conferma anche che c'è stata una confessione da parte dei due indagati? Sì, i due indagati hanno ammesso i fatti. Dopo molto tempo? Sì, devo dire che i carabinieri hanno insieme al collega Tita Ferrante, sono stati praticamente tutta la notte sul posto a sentire e risentire i due ragazzi nei confronti dei quali ancora non c'erano elementi puntuali e precisi, ma c'è stata una spontanea dichiarazione da parte dei due, prima l'uno e poi l'altro, ammissiva dei fatti.